Sciopero nazionale dei mezzi pubblici indetto dagli autoferro tranvieri per mercoledì 24 luglio. Avvisiamo la gentile clientela che le organizzazioni sindacali nazionali degli autoferro tranvieri Filt, CGL, Filt, CIS e Ultratrasporti hanno proclamato nel settore del trasporto pubblico locale uno sciopero di 4 ore per la giornata del 24 luglio. Questo l'annuncio dei sindacati. Gli orari dei mezzi pubblici varieranno di città in città. I treni si fermeranno invece per 8 ore dalle 9.01 alle 17.01. Per taxi e traghetti previsto invece uno sciopero di 24 ore. Un lunedì mattina pieno di disagi sulla rete ferroviaria italiana che dalle 5.40 è sospesa fra Rovezzano e Firenze e Campomarte sulle linee direttissima e convenzionale fra Roma e Firenze per accertamenti dell'autorità giudiziaria dopo l'incendio di una cabina elettrica dell'alta velocità. A darne notizie RFI con una nota che aggiunge è in corso la riprogrammazione del traffico ferroviario. Sul posto sono presenti le squadre tecniche di RFI. A causa della sospensione della circolazione si registrano pesanti ritardi sia per i convogli da Nord, Milano e Bologna che da Sud, Napoli. Nel nostro paese uno studente su dieci è di cittadinanza non italiana. I dati del Ministro dell'Istruzione relativi all'anno scolastico 2017-2018 parlano di 842.000 studenti stranieri su 8.664.000 totali, numeri in aumento di quasi 16.000 unità rispetto alla stagione scolastica precedente. Negli ultimi dieci anni la crescita è stata di 212.000 unità, pari al 33,7%. Il maggior numero di studenti non italiani si trova alle elementari. Nell'anno scolastico 2017-2018 gli iscritti sono stati quasi 308.000, pari all'11% del totale dei bambini. Alle medie sono stati quasi 174.000, mentre alle superiori circa 195.000. Il record in Lombardia, dove vive uno studente straniero su 4.000. Nel 2018 è cresciuto del 6% il consumo di carne e bovina da parte degli italiani, per una spesa aumentata di 500 milioni rispetto all'anno precedente per l'acquisto di bistecche e fettine di manzo, che da sole assorbono un terzo del budget complessivo per carni e salumi. A dirlo è la Col di Retti, che sottolinea anche come si tratti di un trend spinto da un profondo cambiamento nell'abitudine di consumo, con una svolta verso la qualità e la sostenibilità dell'allevamento, che vede il 45% degli italiani privilegiare le carne provenienti da allevamenti tricolori, il 29% a scegliere carni locali e il 20% quella a marchio DOP, IGP o con altre certificazioni di origine, secondo un'indagine col Diretti XE. Quasi due italiani su tre, il 63%, sarebbero inoltre disposti a pagare di più per carne ottenuta rispettando al massimo il benessere degli animali.